capitale della cultura entra in gioco l'auditorium scavolini se ne va all'allusfera dalla piazza furti in autogrill autotrovata con 1500 euro di merce rubata tre denunce un pugno alla droga al miralfiore arrivano gli allenamenti di pugilato nei luoghi dello spaccio le segnalazioni a tv torna percorribile la ciclabile sul foglia interrotta da anni vi spesaro ecco gli abbonamenti per il settimo anno consecutivo in serie c buona serata ben ritrovati al nostro telegiornale oggi è martedì 30 luglio apriamo questa edizione parlando dei luoghi della capitale della cultura ci sono alcune novità infatti a cinque mesi dalla sua inaugurazione è proprio nel giorno del compleanno di gioachino rossini l'auditorium scavolini è pronto ad ospitare l'apertura del rossini opera festival una location inedita per aprire un festival che si presenta quest'anno in versione extra large partiamo così inaugurato il 29 febbraio giorno del compleanno di giochino rossini ed ora pronto a riappropriarsi della sua tradizione rossiniana dal prossimo 7 di agosto serata in cui aprirà il lessipario sul 45esimo rossini opera festival sarà infatti l'auditorium scavolini il luogo d'ouverture del roff nell'anno di pesaro capitale della cultura con la nuova produzione di bianca e falliero non a caso l'edizione 2024 del festival è stata presentata oggi proprio fra le mura del rinnovato impianto pesarese dove roff torna 19 anni dopo l'ultima volta l'ultima volta è stata nel 2005 per cui quasi 20 anni no di chiusura però diciamo che è tornato bello con una buona acustica insomma ce la stiamo godendo il ritorno finalmente all'auditorium scavolini storico pala festival e il teatro rossini che anche l'anno scorso per le varie ristrutturazioni in corso c'era c'era mancato e particolarmente e naturalmente la vitri frigo arena avendo quattro titoli quest'anno insomma ho bisogno della massima forza e potenza di di fuoco di tutti i teatri quindi diciamo chiaramente l'evento con bianca e falliero del ritorno il la ripresa dell'equivo stravagante al teatro rossini e la doppia di debutto dell'ermione con michele variotti con diego florenzo grandissimo cast anche qui alla vitri frigo assieme alla ripresa del barbiere di pierluigi pizzi dal 7 al 23 agosto sarà un festival extra large con quattro giorni di kermess in più nonché cinque opere anziché le tradizionali quattro fra queste le due nuove produzioni di bianca e falliero ed ermione e le due riprese dell'equivoco stravagante e delle barbiere di siviglia era l'occasione giusta per fare una edizione più larga tant'è vero che faremo 30 spettacoli al posto dei soliti 23 era giusto e doveroso farlo in occasione appunto di pesaro capitale della cultura ma oltre ad avere un'opera in più in cartellone abbiamo anche tanti altri concerti quello che sul quale ho molta curiosità e sentire l'ultimo concerto quello che celebrerà i 40 anni della prima volta del viaggio a remis quello che nell'84 diresse claudio abbado programma concertistico e operistico accompagnato da un'attenzione alla sostenibilità da qualche anno abbiamo praticamente azzerato l'uso di bottigliette di plastica nel nostro feste abbiamo dotato tutti di borracce e di distributori d'acqua quest'anno abbiamo un green partner che ci consente di viaggiare nei nostri spostamenti e soprattutto quelli del Salon Rossini in tutta la provincia ci muoviamo con auto elettriche e anche le auto in dotazione del festival grazie al nostro partner diva sono tutte auto appunto elettriche altra parola d'ordine del festival è inclusività il 15 agosto ci sarà una replica di barbiere di Siviglia con anche l'ausilio di alcune innovazioni che consentiranno alla comunità dei ciechi di poter ascoltare e assistere all'opera anche con dei contributi speciali per poter rendere la loro esperienza più completa inclusività significa anche aver cercato di abbattere quanto più possibile la soglia economica soprattutto per i più giovani quindi una politica dei prezzi di grande attenzione verso i giovani sotto i 14 anni i ragazzini possono venire a festa spendendo solo un euro sotto i 30 anni 30 euro in tutti i settori quindi cercare di abbattere l'ostacolo economico che sappiamo essere diciamo un ostacolo reale per molte categorie di persone ma soprattutto verso i giovani abbiamo cercato di azzerarlo ma è anche inclusività le diverse iniziative che facciamo a favore della popolazione i concerti dal balcone di casa Rossini, Salon Rossini, i concerti al museo sono tutte iniziative che mirano a espandere quanto più possibile il nostro pubblico soprattutto in un anno in cui ci aspettiamo che a Pesaro ci siano tante persone attirate da capitale della cultura e che potranno accorgersi di un evento così straordinario come Rossini Opera Festival pur non essendo diciamo esperti appassionati d'opera ma con l'augurio che lo possano diventare Saluta invece un altro simbolo di questi primi sette mesi di capitale della cultura parliamo infatti della lusfera il palco a conchiglia di piazza del popolo che oggi è stato smontato come vi mostriamo da queste immagini dopo aver ospitato 65 appuntamenti come il concerto di capodanno la mostra del cinema e il cater raduno la lusfera lascerà il posto ad un nuovo palco per iniziative che si terranno nei restanti mesi del 2024 il nuovo palco verrà realizzato fra la biosfera e la fontana della piazza e sarà predisposto ad ospitare un parterre con una capienza di 200 posti ed ora cambiamo argomento passiamo alla cronaca la polizia di fano infatti è intervenuta in autostrada per rispondere alla segnalazione di furti in autogrill avvenuta lungo la 14 la pattuglia fanese ha intercettato così l'auto citroen segnalata con a bordo due uomini e una donna alla perquisizione nel bagagliaio del veicolo sono stati rinvenuti numerosi accessori per cellulari tre telefonini souvenir capi d'abbigliamento e prodotti dolciari per un valore di circa 1500 euro i tre occupanti sono stati denunciati all'autorità giudiziaria ed ora ci occupiamo di una nuova iniziativa contro lo spaccio di droga al parco miralfiore un pugno alla droga e non solo in senso figurato i pugni calci sono infatti quelli degli allenamenti di pugilato e di kickboxing di decine di atleti che lunedì sera si sono allenati al parco miralfiore rispondendo alla chiamata di alessandro giardini che con la sua campagna antidroga prevaction continua a moltiplicare venti di aggregazione che si riappropriano di luoghi altrimenti destinati a spaccio e criminalità sono veramente contento di quanti ragazzi hanno aderito con quanta passione con quanta decisione e con quanto diciamo condivisione dello stesso obiettivo perché io prima di iniziare ho fatto 10 minuti di briefing con tutti i ragazzi dove gli ho spiegato il perché anche se già si era capito però volevo cogliere in loro quella luce di testa negli occhi che mi dicesse sì anche noi siamo con te anche noi partecipiamo a questo evento proprio perché siamo d'accordo alla lotta contro la droga a rispondere all'appello ragazzi e delle palestre attiva combat e gli area scigari che hanno scelto il verde del miralfiore come luogo destinato a ripetersi un luogo da vivere appieno anche dalle famiglie dai bambini pesaresi scossi ma non scoraggiati dal recente episodio di denuncia di una bambina puntasi con un ago non lontano dal parco giochi come ricorda francesco fratellino di alessandro giardini mi dispiace veramente per questa bambina perché penso che non debba succedere un episodio del genere in dei parchi dove anche alla nostra sinistra troviamo diciamo i giochi e ho visto pure prima tanti bambini che passavano veramente mi dispiace tanto spero che non rischia nessuna malattia niente spero che ritorni qua a giocare con i suoi amici e di non pensare all'accaduto ecco il parco deve essere vissuto deve essere vissuto dalle realtà sportive come oggi pomeriggio dalle realtà culturali abbiamo tutta una serie di iniziative culturali in queste settimane e anche dalla realtà come ad esempio utopia quindi diciamo che la sicurezza del parco tocca tanti settori e a mio modo di vedere la sicurezza deve avere sempre una visione trasversale deve essere una sicurezza a livello sociale ma deve essere anche una sicurezza che attraverso iniziative culturali educative sociali porta ad un parco vissuto dalla cittadinanza ovviamente poi con il sindaco con gli assessori cercheremo di fare in modo che questo parco possa essere un luogo sicuro attraverso appunto tutte queste iniziative e anche attraverso una grande collaborazione che c'è in queste ultime settimane anche con le forze dell'ordine 3, 2, 1, Viva la vita! Dopo la protesta di piazza tenutasi a Pesaro sabato scorso in merito alle gravi carenze di posti disponibili nei servizi educativi dell'infanzia la regione Marche è pronta a sbloccare alcuni fondi ne abbiamo quindi parlato con la consigliera regionale Micaela Vitri quest'anno si è verificata una situazione senza precedenti non solo entro il 31 marzo la regione non ha dato le linee guida su come è possibile utilizzare i propri fondi ai comuni che quindi sono stati lasciati allo sbando ma per la prima volta i comuni sono stati messi in difficoltà con un problema che non avevano mai avuto perché la regione non ha messo un solo euro del proprio bilancio neanche uno ma ha trasferito solo risorse del fondo sociale europeo senza sapere però che queste risorse sono vincolate a determinati scopi ad esempio dei voucher dei voucher per gli sconti nelle rette che attualmente nel nostro territorio in Italia sono quasi inutili visto che c'è già il bonus IMSS fino a 35.000 40.000 euro di ISEE quindi voucher della regione sarebbero serviti solo diciamo per le famiglie più più ricche più abbienti e invece ai comuni servivano soldi da utilizzare ad esempio per l'assunzione di personale per il prolungamento dell'orario e quindi per aumentare i posti nei nidi da gennaio che chiedo con atti ispettivi ufficiali in consiglio regionale e non ho avuto risposta nemmeno all'ennesima interrogazione andata in aula il 9 luglio ora vi do un aggiornamento perché per le vie brevi ho saputo che tra qualche giorno la regione probabilmente risponderà e autorizzerà l'utilizzo del fondo sociale europeo anche per scopi diversi ad esempio dai voucher bene ma la situazione rimane grave perché questo ritardo accumulato di 8 mesi perché io la domanda la faccio da gennaio ha messo i comuni in difficoltà e quindi nei casi più impegnativi e pesanti come pesaro è impossibile assumere altro personale o prolungare l'orario laddove insomma fino ad oggi non sono stati messi in condizioni di programmare il consiglio regionale ha approvato oggi all'unanimità una risoluzione che prevede il divieto lavorativo tra le 12 e 30 e le 16 per lavoratori esposti al sole con attività fisica intensa al fine di proteggerli dai rischi per la salute derivanti dal pericoloso innalzamento delle temperature durante le ondate di calore estive soddisfazione per i gruppi assemblari di pd e movimento 5 stelle che avevano proposto l'atto di concreto con le sigle sindacali regionali da domani 31 luglio inizierà il fermo pesca nella costa pesarese e anconetana un blocco che durerà fino al 13 settembre mentre nel versante meridionale delle Marche il fermo pesca partirà il 16 agosto e si concluderà il 29 settembre il provvedimento è circoscritto alla pesca d'altura intensiva che riguarda 4 pescherecci 7 a Fano e 2 a Gabice Mare a Pesaro dopo anni di interruzione torna ad essere percorribile il tratto di pista ciclabile sul fiume Foglia tra il Ponte Vecchio e via Gradara a inizio mese c'eravamo infatti proprio noi di Rossini TV occupati di questo disagio sollevato da voi telespettatori e il comune ha per ora rispettato le promesse anche se come vedremo in questo prossimo servizio manca ancora qualche intervento per completare il ripristino vediamo al momento il tratto di pista ciclabile somiglia più ad un sentiero immerso in una giungla di vegetazione selvaggia ma intanto torna perlomeno ad essere percorribile dopo anni di interruzione torna infatti ad essere collegato il tratto di Bicipolitana sul Foglia nel tratto compreso tra il Ponte Vecchio e via Gradara a inizio luglio le nostre telecamere sollecitate dalle segnalazioni di voi telespettatori avevano infatti ricordato questo blocco perdurante che mutilava l'unione ciclabile fra centro e periferia causato anche dal cantiere tuttora in fase di stallo per il completamento del nuovo ponte ciclopedonale sul Foglia un cantiere che non è ancora ripartito ma intanto come preannunciato dall'assessore Riccardo Pozzi si è provveduto perlomeno ad un intervento temporaneo che ripristinasse il percorso sono infatti sparite le transene che erano presenti su via Gradara così come quella all'intersezione fra via Spoleto e il sentiero Laudato Si a giorni si dovrebbe anche completare il ripristino con le necessarie potature e potrebbe finalmente trovare una soluzione anche il recupero degli orti giuli grazie ai 3.360.000 euro di fondi regionali che il comune di Pesaro ha intercettato per i cosiddetti ITI acronimo di investimenti territoriali integrati urbani nella sede della Regione Marche è stato sottoscritto l'accordo per un progetto che prevede tre grandi interventi relativi al Giardino Tocentesco degli Ortigiuli al Giardino di Palazzo Ricci e all'ex cinema moderno di Via Venturini ed ora cambiamo argomento parliamo di spettacoli perché continua il fitto programma della rassegna Miralteatro d'estate nell'anfiteatro che si trova proprio nel Parco Miralfiore questa sera sul palco lo scrittore Gianluca Gotto con le domande che ti cambiano la vita domani invece lo spettacolo inedito Welcome to the Musical realizzato dal coro filarmonico Rossini che abbiamo intervistato mercoledì 31 luglio la rassegna Miralteatro d'estate nel Parco Miralfiore ospiterà Welcome to the Musical uno spettacolo proposto dal coro filarmonico Rossini che si propone in una versione particolare quella del musical è uno spettacolo abbastanza nuovo per noi, frizzante, pieno di energia, pieno di musica che spero faccia anche ballare il pubblico addirittura, me lo auguro per noi è divertente questa cosa e naturalmente rimane impegnativa proprio perché non è esattamente nostra abitudine approcciare questo genere quindi per noi è sempre un bel banco di prova Welcome to the Musical è un concerto che vede protagonista il coro filarmonico Rossini di Pesaro e sarà affiancato da una band di musicisti, eccezionali musicisti composta da pianoforte Alessio Paolizzi, alle chitarre Marco Di Meo al basso Lucio Aiello e alla batteria Rico Montanaro tutto questo accompagnato dalla voce della cantante solista Valentina Minniti e ripercorreremo un po' la storia del musical a partire dagli anni 50 con queste 6 storie di Leonard Bernstein e vari medli passando per il musical di Weber fino alle musiche degli Abba quindi degli anni 90 sarà un concerto molto ricco e il pubblico in questo sarà anche accompagnato e guidato dalla professoressa Maria Chiara Mazzi che appunto ci guiderà con una guida all'ascolto all'interno di questo viaggio per rendere anche più consapevole il pubblico di quello che sta ascoltando Allora per l'acquisto dei biglietti oltre alla possibilità di acquistarli online su Viva Ticket c'è invece la possibilità di acquistarli direttamente al teatro sperimentale mercoledì dalle 17 alle 19 o direttamente al giorno spettacolo quindi di nuovo mercoledì dalle 20 in poi all'Anfiteatro Mirafiora E concludiamo con una notizia di sport è stata presentata oggi la nuova campagna abbonamenti per i tifosi della Vispesaro pronti al settimo anno consecutivo di Serie C Con più di un mese di anticipo sulla prima gara casalinga della Serie C 2024-2025 prevista il 2 settembre al Benelli con l'Arezzo la Vispesaro ha presentato oggi la sua campagna abbonamenti nella sede del main sponsor Tecnoplast che ancora una volta l'accompagnerà nel suo settimo anno consecutivo in Lega Pro presentata una tessera casalinga che avrà alcune proposte promozionali a cominciare da un abbonamento in tribuna Prato o in laterale al prezzo di 100 euro per chi non si è mai abbonato alla Vispesaro La Prato e la laterale per chi non si è mai abbonato 100 euro 100 euro quanto spediamo per ogni partita? 7,9, 8 euro insomma una cosa veramente minimale è un acquisto di questo abbonamento per sostenere la Vispesaro e per presidiarla poi durante il campionato Promozione per i nuovi abbonati ricalibrata ad 80 euro per le tessere ridotte riservate a donne over 65, under 21 e appena 20 euro per il ridottissimo dedicato ai bambini fino a 13 anni Stessi prezzi e stessa promozione anche per i primi 200 vecchi abbonati che si presenteranno al botteghino Ancora 100 euro per la Prato e la laterale per i primi 200 sportivi, tifosi, sostenitori che si presenteranno al botteghino i primi 200 anche se sono abbonati già da diversi anni usufruiranno di questo prezzo Non ancora comunicata la data di partenza del via ai tesseramenti con annessa promozione, una promozione dalla quale esclusa la tribuna coperta il cui abbonamento costerà 300 euro 150 invece il prezzo senza promo per Prato e tribuna laterale Sono leggermente aumentati ma perché anno scorso non c'erano le due partite iniziali che come ben ricorderete le prime due la Vispesaro le ha giocate fuori casa per indisponibilità del campo e le andammo a giocare a Recanati quindi non era giusto inserirle nella campagna abbonamenti È un'opportunità per la città è un'opportunità per gli imprenditori è questo campionato di Lega Pro quindi la presenza dovrà essere numerosa è incentivata e noi faremo di tutto per far sì che questo accada E siamo arrivati anche alla fine di questo telegiornale di oggi martedì 30 luglio ma restate con noi perché subito dopo questa prima edizione andremo a conoscere la storia di Antonio Rossini e della Lega Navale 90 anni a cavallo delle onde un bellissimo racconto che abbiamo realizzato proprio in mare aperto su una bellissima barcavela quindi non perdetevi questo appuntamento e invece questa sera alle 21.20 vi andiamo a raccontare quella che è stata l'inaugurazione della mostra di ceramica di Maria Moretti Barbarini e subito dopo ci sto a fare fatica un bellissimo progetto che coinvolge i giovani riqualificare e ripulire il borgo di Gradara questo bellissimo progetto organizzato da CSV Marche invece domani vi aspetto alla rassegna stampa buongiorno Rossini chiaramente 7.20 è l'orario ormai consueto che conoscete benissimo quindi vi aspetto grazie per averci seguito e buona serata grazie a tutti